Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Picchiato dal branco dopo che la donna è stata infastidita dai loro pesanti apprezzamenti. Sta meglio il 35enne finito al pronto soccorso di San Benedetto domenica scorsa all'alba. Il giuliese è stato colpito dai baby aggressori nel fossato del torrente Albula. Anche lei si è ripresa nonostante gli attimi di paura vissuti alle prime luci del giorno di domenica. Tutto è partito sul lungomare, qui la donna passando davanti ai ragazzini è finita nel loro mirino. L'uomo che l'accompagnava non ha reagito e si è incamminato insieme a lei verso il fossato dell'Albula per raggiungere l'auto. Ma prima di arrivare al parcheggio nel greto del torrente si è consumata l'aggressione. Il 35enne è stato colpito, anche la donna, finché un passante ha visto quanto stava accadendo e ha allertato i soccorsi. Si tratta del secondo episodio in Riviera. Infatti il 12 agosto scorso in zona Bambinopoli le vittime furono due giovani turisti romani. La polizia del commissariato di San Benedetto è al lavoro per risalire ai responsabili. Questa mattina sull'accaduto abbiamo ascoltato il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo che ha espresso massima vicinanza alla coppia giuliese e si è detto fiducioso sull'esito delle indagini. Quest'anno è stata una città sicurissima, più che sicura. Purtroppo abbiamo avuto un paio di eventi un po' gravi, l'ultimo l'altra sera, però la polizia si è subito attivata per individuare le persone che hanno commesso questo reato. È una cosa che si concluderà, penso, a breve, anche perché più o meno hanno capito tramite le indicazioni ricevute quali sono i personaggi che hanno causato danni a queste due persone di Giulianova. Quest'anno l'estate è stata molto più tranquilla rispetto agli altri anni. I numeri delinquenziali si sono abbassati notevolmente. Gli unici reclami che abbiamo avuto sono stati sui decibel musicali, dove comunque la polizia municipale è già intervenuta. Non ci dimentichiamo che comunque quest'anno la polizia municipale ha operato fino alle 4 per i controlli, insieme alla polizia, ai carabinieri e alla guardia di finanza. Quest'anno abbiamo avuto una stagione dove la città è stata tenuta sotto controllo. Poi a volte succedono eventi come quelli dell'altra sera, che non sono inaspettati, soprattutto perché sono accaduti in un punto particolare. Però diciamo che la stagione è andata benissimo.